Gentili telespettatori, buona giornata. Quando ho visto la notizia non ci potevo credere, ho detto non è possibile, non è possibile, e invece è possibile. L'ambasciata russa elogia il fatto quotidiano di Travaglio, il voltafaccia del direttore. Il giornale di cui stiamo parlando fa propaganda per la Russia. Voi direte non è possibile. Sì, l'account ufficiale dell'ambasciata russa in Italia ha rilanciato con un tweet un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano e firmato dalla scrittrice giornalista ed ex eurodeputata Barbara Spinelli che titolava una guerra nata dalle troppe bugie e un'analisi definita a filo russa di quel che sta accadendo negli ultimi giorni in Ucraina, dopo l'invasione ordinata da Putin. In quell'articolo il dito era puntato contro gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Hanno sottovalutato, non sono stati in grado, non sono stati capaci. L'Europa deve riconoscere i suoi errori e le sue bugie. Naturalmente colpisce l'argomentazione della Spinelli. Diciamo che questo modo di fare giornalismo potrebbero portare anche all'oscuramento da parte dei social del giornale di Travaglio. Come sono stati oscurati anche i siti di propaganda di notizie false, potrebbe succedere anche al Fatto Quotidiano di Travaglio. Beh, insomma, forse non aggiungiamo altro. Questa è la notizia, ognuno darà le sue conclusioni. Io sono rimasto realmente allibito, allibito, perché in Italia come Travaglio e come questo giornale, non dico Travaglio in sé, ma Travaglio come direttore del giornale autorizza la pubblicazione degli articoli. Non è che i giornalisti li pubblicano a cacchio. Prima vengono valutati gli articoli e poi vengono autorizzati. Quindi dietro c'è l'autorizzazione di Travaglio. Pertanto reputo inaccettabile un comportamento del genere in questo momento, totalmente inaccettabile. Come inaccettabile è chi la pensa come questa giornalista. Totalmente inaccettabile sotto il mio punto di vista. Arrivederci a tutti.